Grazie per me, per noi di Radio SM1 è un onore oggi avere ai nostri microfoni il colonnello Giancarlo Filippo, comandante del centro di formazione Alliation English dell'Aeronautica Militare di Loreto e del Presidio Aeronautico di Ancona. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi del gradito invito. Grazie e anche auguri, perché noi abbiamo qui un ufficiale dell'Aeronautica che quest'anno festeggia i suoi cento anni. Per la verità la data esatta è il 28 marzo, ma è un anno del centenario, una data importante per l'Aeronautica, forze armate più stimate, più apprezzate nel corso di un secolo, no colonnello? Com'è cambiata l'Aeronautica in questi cento anni? Sicuramente, come diceva, è una data importantissima per noi, perché raggiungere cento anni è un traguardo incredibile. Consideri che nel mondo le forze aeree e militari che hanno raggiunto questo traguardo sono non più di 4-5, quindi una forza aerea che ha una lunghissima storia, una storia però fatta di uomini, ma fatta di mezzi chiaramente, e gli uomini credo sono cambiati pochissimo. Quello che è cambiato è chiaramente il mezzo aereo, la tecnologia, ci siamo evoluti e guardiamo sempre al futuro, questa è la nostra caratteristica principale forse. Secondo lei il paese Italia è consapevole di avere nella nostra aeronautica un fiore all'occhiello a livello mondiale? Sicuramente sì, perché il supporto che riceviamo dall'intero paese ci conforta e ci fa capire anche che questa vicinanza c'è, che siamo apprezzati e stimati, lo siamo anche all'estero chiaramente, perché io ho anche un'esperienza lunga di servizio presso il quartiere generale della Nato, per esempio a Belgio, a Bruxelles, quindi questo mi fa capire quanto siamo apprezzati non solo in Italia ma anche nel mondo. Per serietà, per disciplina, per abbonicazione, per senso del dovere? Tutte queste cose sicuramente, ma anche per professionalità, per flessibilità e per tutte quelle caratteristiche che ci fanno distinguere rispetto agli altri. Una delle caratteristiche principali, per esempio, che quando sono stato in giro per il mondo, anche in operazioni, ci ha sempre contraddistinto è quella dell'empatia. Come i militari italiani riescono a entrare in empatia con persone di qualsiasi parte del mondo, penso che pochi al mondo riescano. Questo è un valore aggiunto perché spesso e volentieri si tende, soprattutto in situazioni di conflitto, a non vedere l'anima, l'uomo o la donna dietro la divisa. Invece magari quello che mi dice lei, che è supportato da tante testimonianze anche di gente che è stata aiutata dall'Aeronautica, è proprio questo. Cioè, l'italiano oltre alla divisa c'è di più, insomma, mi verrebbe da dire. Sicuramente, entrare in empatia non solo con i militari degli altri paesi ma anche con i cittadini delle altre nazioni. Questo è l'importante, capire chi sono, come ragionano e quindi come rapportarsi con loro nella vita di tutti i giorni quando operiamo fuori dai confini nazionali. Colonello, torniamo al compleanno. Come state festeggiando e come continuerete a festeggiare questi cento anni di orgoglio aeronautico? Abbiamo iniziato a festeggiare da inizio anno, come dicevo appunto dal 28 marzo, con una grandissima festa principalmente su Roma, ma la stessa festa è stata fatta in tutte le basi dell'Aeronautica Militare, compreso delle Marche e noi l'abbiamo fatto su Loreto. Proprio sempre nelle Marche ci saranno altre attività che serviranno per ricordare questo importantissimo evento per noi e per la nostra Forza Armata. Per esempio abbiamo avuto una mostra fotografica a Urbino e abbiamo anche svolto un'altra attività su Senigallia. Poi andremo prossimamente a effettuare un concerto della nostra banda allo Sferisterio di Macerata il 15 settembre. C'è stata l'esibizione delle classiche frecce tricolori a San Benedetto del Tronto e ci sarà il sorvolo del capoluogo di regione Ancona proprio lunedì prossimo, la mattina del 7 agosto, intorno alle 10.30-10.45 ci sarà un sorvolo con i classici fumi tricolori che sorvoleranno il capoluogo proprio per salutare tutta la regione Marche. Si fa chiaramente nel capoluogo proprio simbolicamente per salutare tutta la regione e ringraziare tutta la popolazione di questa regione che ci è sempre stata vicina. Poi andremo avanti anche a ottobre con un'altra mostra sempre su Loreto e dovrebbe concludersi tutto poi a dicembre perché è la data della nostra santa potettrice che è proprio la Madonna di Loreto, quindi ci troviamo sempre qui delle Marche dove l'aeronautica verrà a Loreto a festeggiare e a concludere quindi l'anno dei festeggiamenti su Loreto per ricordare la nostra potettrice. Ah quindi diventeremo capitale per un giorno dell'aeronautica a livello nazionale. Esattamente. Anche un bel riconoscimento per la nostra regione. Certo, certamente. Lei parlava di una serie di eventi. Quando voi nell'aeronautica organizzate qualcosa, poi diceva come a punta di diamante in termini di visibilità, però richiamate sempre molta gente e ci sono anche molti ragazzi che arrivano. Questi eventi che lei ha enunciato sicuramente servono per avvicinare ulteriormente i cittadini, la cittadinanza all'aeronautica militare, ma un giovane che vuole avvicinarsi e che vuole entrare a far parte dell'aeronautica militare, come deve muoversi? Perché poi è un qualcosa, è una realtà che può dare molto a livello di formazione, a livello di disciplina, a livello anche di sbocco lavorativo, però c'è il rovescio della medaglia, mi passi questo termine, c'è una disciplina, insomma parliamo di una forza armata, parliamo di un qualcosa che soprattutto oggi mi verrebbe da dire almeno per rompere il ghiaccio potrebbe essere, uso un termine forte, ma giusto per spiegarmi meglio, a tratti anche quasi traumatico per il giovane che si avvicina? Sì, potrebbe esserlo, perlomeno quando da giovane io mi sono approcciato da forza armata forse era meno traumatico rispetto a quello che potrebbe essere al giorno d'oggi, vedendo chiaramente qual è l'indirizzo della società comune, questo è ovvio, però come giustamente diceva è un percorso affascinante, perché può dare bellissime soddisfazioni, può consentire di entrare in forza armata che lavora in team, questa è la cosa bella, cioè il fatto di lavorare insieme agli altri, con gli altri e questo ci consente di operare al meglio, però diciamo che questo centenario, come diceva giustamente, è anche l'occasione per mostrarci, per mostrarci di più, meglio a tutti, a tutti i nostri concittadini e proprio e anche eventualmente per attrarre giovani, ragazzi e ragazze che vogliono provare a avviare questo percorso di vita. A profitto della sua presenza, ecco praticamente il ragazzo che vuole avvicinarsi, ci dia anche dei riferimenti quando è opportuno che un giovane suoni al vostro citofono per intenderci, qual è il percorso migliore per avvicinarsi, entrare e iniziare questa carriera nella maniera più adeguata e più opportuna possibile? Certamente, diciamo che la prima tappa, quindi il primo campanello si può già suonare, non dico in adolescenza ma quasi, perché noi abbiamo un liceo, che è l'Istituto 2E, che si trova a Firenze, l'Unito in tutta Italia per l'Aronautica Militare, che accoglie ragazzi e ragazze che hanno iniziato il liceo classico o il liceo scientifico, per cui possono concludere l'ultimo triennio dei due indirizzi presso di noi, iniziando una carriera simil militare per così dire, quindi loro vengono quindi, chi potrà vincere perché è sempre un concorso, chiaramente c'è una selezione a monte, chi riesce a passare alla selezione può fare questo percorso di tre anni presso il nostro istituto a Firenze, poi chiaramente il triennio comporta tutta una serie di vita molto simile a quella militare, però questo chiaramente alla fine del triennio non comporta l'essere assunti nella forza armaria, non vincola in nessun modo, può dare qualche punteggio in più per partecipare poi ai concorsi effettivi per l'ingresso dell'Aronautica, ma serve soprattutto per avvicinare ragazzi e ragazze al nostro mondo e quindi è un modo come un altro per innervare cultura aeronautica in ragazzi e ragazze che poi magari faranno tutt'altro nella loro vita, però è una bellissima esperienza per iniziale. Passata questa ai classici 18 anni, cioè al raggiungimento della maggior età, si può decidere di fare il concorso o per l'Accademia Aronautica, che si trova a Pozzuoli, a Napoli, o per allievi marescialli della scuola che si trova a Viterbo, oppure anche quella che era una cosiddetta una volta la truppa, che adesso sono professionisti giovani, ma quindi che lo fanno per carriera, per entrare come graduati, involontari in ferma iniziale cosiddetti. A seconda del tipo di percorso di scegliere poi c'è una carriera che viene a questo punto a svilupparsi. Chiaramente l'Accademia serve per gli ufficiali, la scuola marescialli per i sotto ufficiali e i graduati per la loro carriera, da graduati di carriera appunto. Bruno Nello, a prescindere dalle decisioni di ognuno, parliamo dei ragazzi, di intraprendere questa carriera o meno, lei da ufficiale e da uomo di valori, sostanzialmente perché indossa una divisa, cosa si sente raccomandare ai giovani di oggi, lei vive quotidianamente, la realtà quotidiana ma più in generale quella delle nuove generazioni, dove stanno andando i giovani secondo lei. Insomma, qual è il modo migliore per mantenere, per voler essere ottimisti, la barra del mondo? Questa è una domanda molto complessa sicuramente perché vediamo che il mondo va in una direzione, noi come Forza Armata cerchiamo di mantenere proprio tutti quei valori, quegli ideali che ci consentono anche di poter non solo operare al meglio, ma anche e soprattutto di vivere al meglio le nostre vite. Quindi entrare in un mondo come quello dell'aeronautica militare consente anche di travasare tutta questa serie di valori, di ideali che possono consentire a un giovane di oggi, parliamo ai giovani ragazzi di oggi, di poter crescere e maturare in un ambiente sano, pulito e possibilmente anche lontano da ogni altra tentazione negativa ovviamente, visto che il mondo d'oggi completamente tecnologico consente da un lato di poter operare al meglio in settori altamente tecnologici come quelli che l'aeronautica rappresenta, ma anche da altro canto a distrazioni di ogni tipo, quindi bisogna saper usare la tecnologia nel modo giusto, questo sicuramente, visto che andiamo verso sempre più di un mondo di intelligenza artificiale. Beh, questo potrebbe essere un connubio quasi ideale, perché se da una parte abbiamo i giovani che si avvicinano e che sono ormai maestri, perché ci nascono con le nuove tecnologie in mano, dall'altra c'è una forza armata che offre loro la possibilità di operare con le migliori tecnologie, diciamo così tra virgolette, disponibili sul mercato, no? Assolutamente sì, infatti questo è quello che l'aeronautica offre, proprio lo sguardo verso il futuro, che è il motto del nostro centenario, fa capire quanto sia una forza armata tecnologicamente avanzata con strumenti molto tecnologici, dove un giovane d'oggi completamente digitalizzato, o digitale come si suol dire, riesce a operare al meglio per sfruttare le proprie caratteristiche e a renderle disponibili per il paese. Senta, colonnello, chiudiamo tornando nello specifico a casa sua. Di cosa vi è occupata il centro di formazione Aviation English dell'Aeronautica Militare di Loreto, di cui lei è comandante, e nel presidio aeronautico di Ancora? Allora, il centro di formazione Aviation English è una scuola di eccellenza, non perché la dirigo io ovviamente, ma perché è la scuola di lingue dell'Aeronautica Militare. Lì noi insegniamo corsi di lingua, soprattutto di inglese generale, ai nostri allievi e al nostro personale dell'Aeronautica Militare, ma non solo, perché la particolarità della nostra scuola è che è l'unica abilitata in tutta Italia a poter insegnare, testare e validare i corsi di inglese tecnico proprio per piloti e controllori di volo. Quindi da noi vengono non solo persone dell'Aeronautica, ma anche persone delle altre forze armate, dei corpi dello Stato, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, eccetera, proprio perché il nostro istituto riesce, ed è l'unico abilitato, a insegnare l'inglese tecnico proprio per piloti e controllori di volo. Quindi noi svolgiamo corsi e esami durante tutto l'anno, ininterrottamente, e abbiamo anche corsi per altre lingue ovviamente, quelle che ci vengono richieste, e facciamo anche corsi per ragazzi stranieri. Noi nel nostro centro abbiamo ragazzi a cui insegniamo o l'italiano, perché sono ragazzi il cui paese ha significato degli accordi governo-governo con il nostro paese, e per cui poi andranno a fare le nostre accademie militari qui in Italia. E quindi sono ragazzi, per esempio in questo momento abbiamo ragazzi della Libia, del Burkina Faso, del Niger, della Mauritania, della Nigeria, quindi ragazzi di paesi soprattutto africani che fanno questi corsi di italiano. E poi abbiamo anche alcuni ragazzi giovani che invece fanno i corsi di cosiddetto aviation English, quindi l'inglese tecnico per piloti, per esempio del Giappone. Comunque l'Italia ha un accordo governativo, e quindi loro mandano, i loro ragazzi, un paio di piloti l'anno, a studiare nel nostro paese, non solo prima la aviation English, ma poi a fare anche i corsi di volo presso le nostre scuole di volo. Grazie, grazie colonnello. Ricordiamo gli appuntamenti per venire a festeggiare con voi qui nelle Marche i cento anni dell'Arenautica? Certo, allora il primo appuntamento è proprio lunedì 7 agosto, sui cedi di Ancona, per ammirare il tricolore che sorvolerà la città di Ancona. Poi abbiamo a settembre, il 15 settembre, il concerto della banda dell'Arenautica militare allo Sferisterio di Macerata. Poi avremo a ottobre, a partire dall'8 ottobre, un'altra mostra fotografica del centenario, sempre su Loreto. E poi il 10 dicembre, nella Basilica di Loreto, la Santa Messa, in onore della nostra patrona, la Madonna di Loreto. Grazie. Io ringrazio il colonnello Giancarlo Filippo, lo ricordo, comandante del centro di formazione al 10 indice dell'Arenautica militare di Loreto e del presidio aeronautico di Ancona. Grazie colonnello. Le strappo una promessa di venire a tirare un bilancio, un po' sull'attività dei cento anni di questo anno di festeggiamento, in quanto ha concluso questo periodo di festa per l'Arenautica e in generale per la nostra nazione. Perfetto, lo aspettiamo allora, grazie. Grazie colonnello. Grazie.